Questo podcast contiene i sermoni della Chiesa Evangelica Breccia di Roma. Serviamo la città di Roma e tramite essa l'Italia, in modo regale, sacerdotale e profetico, affinché la parola di Dio faccia breccia per trasformarla. Buon ascolto! La lettura di stasera viene da Luca, capitolo 8. Lei predicherà dalla parola, questo è il testo, questa è la parola di Dio. In seguito, Egli e Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. Con Lui vi erano i dodici ed alcune donne erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che le assestevano con i loro beni. Orcome si riuniva una gran folla e la gente di ogni città accorreva a lui, Egli disse in parabola. Il seminatore uscì a seminare la sua semenza e, mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia. Appena fu germogliato, seccò, perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine. Le spine, crescendo insieme ad esso, lo soffocarono. Un'altra parte cadde in un buon terreno. Quando fu germogliato, produsse il cento per uno. Dicendo queste cose, esclamava, chi ha orecchi per udire, oda. I Suoi discepoli gli domandavano che cosa volesse dire questa parabola. Ed Egli disse, a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma gli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non odano e udendo non comprendano. Or questo è il significato della parabola. Il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, ma poi viene il diavolo. E porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola di Dio, la ricevono con gioia. Ma costoro non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze, dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. E quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Nessuno, accesa una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto. Anzi, la mette sul candeliere, perché chi entra veda la luce. Poiché non c'è nulla di nascosto che non debba manifestarsi, né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce. Attenti dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma chi non ha, anche quello che pensa di avere sarà tolto. Sua madre e i suoi fratelli vennero a trovarlo, ma non potevano avvicinarlo a motivo della folla. Gli fu riferito, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e vogliono vederti. Ma egli rispose loro, mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Buonasera a tutti, vogliamo pregare. Dio Padre, ti preghiamo nel nome di Dio Figlio. Adesso ti chiediamo che con la forza di Dio Spirito, che le tue parole portino frutto nei nostri cuori stasera. Chiediamo questo nel nome del nostro Signore e Salvatore, il Rei, Gesù Cristo. Amen. Allora, il centro di Roma è un luogo molto, molto rumoroso. Le nostre orecchie ricevono un costante bombardamento di suoni. A volte è un sovraccarico sensorale. Tuttavia, anche se il rumore della città è costante, è possibile abituarsi ad esso. Non è vero? Impariamo a sintonizzare il rumore. Lo sentiamo, ma non lo ascoltiamo più. Allo stesso modo, all'inizio del capitolo 8 di Luca, Gesù si trova in un luogo molto rumoroso. E quando aggiunge la sua voce al mix, scopriamo che molte persone avevano difficoltà ad ascoltare davvero ciò che diceva. Il primo versetto ci dice che Gesù stava viaggiando di città in città, di villaggio in villaggio, e predicava l'Evangelo. Scacciava i demoni, compiva miracoli e guariva le persone. I suoi dodici discepoli e altri seguaci erano con lui per sostenere e incoraggiare la sua opera. Questo vediamo il versetto 3. Questa opera che aveva iniziato a catturare la tensione delle masse. Questo vediamo il versetto 4. Quindi una grande folla si era radunata per vedere cosa stava succedendo e per ascoltare questo personaggio che faceva un gran rumore insolito e diverso da quello che erano abituati a sentire. Così Gesù racconta la parabola del seminatore e della lampada per descrivere come le persone rispondono alla buona notizia. La buona notizia che egli stava proclamando in quel momento. Tutti avevano sentito parlare di lui, lo ascoltavano, ma non tutti lo ascoltavano veramente. Perché? Voglio dire, ciò che tutti desideravano nel profondo del cuore, Cioè la salvezza di Dio e l'avvento del regno, Gesù era venuto a fornirlo. I suoi potenti miracoli testimoniavano la sua potenza di procurarla, ma non tutti erano in grado di ottenerla. Sentivano, ma non ascoltavano. E così Gesù racconta queste parabole per fare un punto molto importante che vediamo in versetto 18. Attenti dunque a come ascoltate. Attenti dunque a come ascoltate. E così chiedo a tutti noi questa sera di considerare come ascoltiamo la parola che Gesù è venuto ad annunciare. Come rispondiamo ad essa? La sentiamo senza ascoltarla? O la ascoltiamo veramente? E se stiamo veramente ascoltando, come lo sappiamo? Gesù ci dice che ascoltare la parola significa vedere come la parola si avvicina, come la parola emette radici e come la parola trasforma. Quindi il primo punto è che la parola si avvicina. Prima di parlare dei diversi tipi di terreno menzionati in questa parabola, o del significato della lampada, dobbiamo riconoscere come inizia questa parabola. Inizia con un seminatore che esce a seminare, versetto 5. È un'immagine che la gente del tempo di Gesù avrebbe conosciuto molto bene, no? Un seminatore che esce con un sacco pieno di semi, cammina per il suo campo e getta i semi intorno a sé. Questi semi cadevano su quattro tipi di terreno. C'era un terreno duro, un terreno roccioso, un terreno pieno di spine e un terreno buono. Alla fine solo il terreno buono produsse un grande raccolto. Ora, cosa voleva dire Gesù con questo? Perché insegnava a queste grandi folle usando le parabole e cosa significava? Questa è esattamente la domanda che i suoi discepoli li pongono al versetto 9. Gesù disse che era stata data loro la conoscenza del mistero del regno di Dio. Allora sarebbe stato concesso di conoscere il significato delle parabole. Gli altri invece non lo sapranno perché, affinché vedono non vedono. E udendo non comprendono. Versetto 10. E questo qui è una citazione di Isaia, capitolo 6, quando il profeta rispose alla chiamata di Dio per essere il suo messaggero al suo popolo. Quando il popolo di Dio si era reso talmente colpevole di idolatria da diventare come gli idoli che adorava. E di conseguenza il giudizio di Dio sarebbe stato che nella loro durezza di cuore non avrebbero compreso le parole del suo messaggero. Ma questo non doveva essere il caso di tutti. Qui c'è una buona notizia perché se fosse stato così non sarebbe mai stato mandato un seminatore, ma un signore della guerra. Quindi il terreno, come vediamo, è il cuore degli uomini. E mentre molti terreni sarebbero stati induriti e incapaci di portare frutto, nel giudizio di Dio c'è sempre la sua misericordia. E sebbene molti avrebbero ascoltato ma non capito, Ezechiele ci ricorda la promessa di Dio. Quando Dio disse Quindi questo accadrà quando il messaggero, il seminatore, Si avvicinerà a loro. Ecco perché Gesù stesso ha detto Le mie pecore ascoltano la mia voce E io le conosco Ed esse mi seguono E io do loro la vita eterna E non periranno mai E nessuno le rapirà dalla mia mano Giovanni 10, 27 e 28 Quindi vedete, la parola si avvicina al popolo di Dio E poiché è il popolo di Dio, si avvicina a lui In questa storia non tutti nella folla si avvicinarono a Gesù per chiedergli cosa volessi dire con la sua parabola Ma le sue pecore, sì I suoi discepoli lo fecero E' come una porta automatica No? Al supermercato, a Carrefour La si vede Sai che si apre su un altro luogo Ma se non si conosce il valore di ciò che si trova dall'altra parte della porta Non ci si può avvicinare Non ci interessa Anche se hai un po' di fame Ma quando vi sono stati dati gli occhi per vedere la bellezza del cibo No? Che si trova dietro di essa Essa vi attira e vi apre No? Poi Gesù disse ai suoi discepoli Che nulla era stato nascosto Versetto 17 Egli era il seminatore inviato a spargere il seme dell'Evangelo tra tutti gli uomini Lui e il suo messaggio erano la lampada che brilla davanti agli uomini Ma non tutti vogliono vedere ciò che la luce di quella lampada rivela Perché rivela il cuore degli uomini Non vogliono riconoscere la verità rivelata dalla luce perché amano le tenebre Che essa dissipa Giovanni 1 Scusa Giovanni 3 e 19 Quindi il seme della parola di Dio non penetra in tutti i cuori Come ci dice questa parabola Alcuni rifiutano completamente la parola Altri ricevono la parola solo nel modo visibile Ma non entra abbastanza in profondità Ma i figli di Dio sentono la parola e ascoltano Perché la parola si avvicina Perché Cristo si avvicina al loro cuore E come un seme in un terreno buono scende in profondità E mette radici Questo è il nostro secondo punto La parola mette radici Ma il seme della parola non mette radici in un terreno qualsiasi Come vediamo qui Ci vuole un tipo particolare di terreno E in questa parabola Gesù ne descrive quattro Tre dei quali non possono produrre una crescita organica C'è il terreno duro Il sentiero che attraversa il campo che tutti percorrono Compattando così la terra e rendendo impossibile al seme di attecchire Poi c'è il secondo terreno che è poco profondo Il seme non entra molto in profondità E non appena gli elementi naturali rappresentano una sfida Le radici sono troppo deboli per sostenere la crescita E la pianta muore C'è poi un terzo tipo di terreno In cui le radici iniziano a crescere Ma anche le spine E con il tempo Le radici delle spine soffocano ogni crescita E poi c'è il terreno buono Dove le radici arrivano in profondità Crescono forti E alla fine producono un buon raccolto È quello che vogliamo Allora Che significa questi diversi tipi di terreno? Il primo terreno è L'irreligione Versetto 12 Quindi è l'incredulità È il terreno delle persone Il cui cuore è così duro Da non desidare nemmeno la parola di Dio Il secondo e il terzo terreno Sono la religione Possiamo dire Entrambi esprimono interesse Per la parola proclamata Si comportano addirittura Come se avessero abbracciato La parola di Dio Producono una falsa crescita Attraverso l'adesione Alle funzioni religiose O alle buone opere Per il secondo terreno Quando arrivano le prove Per esempio le sofferenze Le difficoltà della vita La loro fede Non può essere sostenuta Versetto 13 Allo stesso modo Il terzo terreno È la persona che sembra crescere Nella sua conoscenza Della parola di Dio Ma contemporaneamente Cresce nei suoi effetti Per le cose Anche di questo mondo Il desiderio di successo Per esempio Di ricchezza Di popolarità Di status E di sicurezza Diventa per loro Più importante Della parola di Dio E quindi ogni crescita Apparente Viene alla fine Soffocata Versetto 14 Quindi alla fine Della giornata Sotto la luce di Cristo Entrambi questi terreni Religiosi Rivelano una fede Superficiale E poco profonda In tutti e tre I primi terreni La crescita È scarsa O nulla Perché il seme Della parola di Dio Non è sceso abbastanza In profondità Nei loro cuori Ma il quarto terreno È quello in cui La parola scende In profondità Nel cuore della persona Mette i radici Perché il terreno Di quel cuore È stato coltivato E preparato A riceverla Poi le radici Si espandono In profondità Perché la verità Della parola Non è stata solo udita Ma è stata veramente Ascoltata Quindi in questo senso L'Evangelo di Gesù La buona notizia Della salvezza Di Dio La parola stessa Di Dio È stata accolta Riflettuta Creduta veramente Coltivata Dallo Spirito E quindi Ha portato E prodotto Molto frutto Questa è la vera fede La crescita organica Dell'Evangelo Quindi in questo momento Sarebbe molto facile Fare un sermone Moralista Quante volte Avete sentito Un sermone Predicato In questo mondo Ascoltate la parola Allora Che tipo di terreno Siete? Non siate Il terreno duro Non siate Il terreno Superficiale Non siate Il terreno Pieno Di spine Oppure Siete Il terreno Buono Ascoltate E obbedite La parola Di Dio Amen Ma io ho sentito Spesso Predicare In questo modo È vero Che i figli Di Dio Devono Ascoltare E obbedire Alla parola Di Dio Ma questo È possibile Solo quando Riconosciamo La potenza Dell'Evangelo Quando mette Radici Nella nostra vita E come fa A farlo? Come fa Assieme A mettere Radici Forti? Prima Muore Prima Muore È un atto Di morte Sacrificale Di quel seme Della grazia Che produce Vita E questo Ciò che Gesù Ha fatto Per il popolo Di Dio Il predicatore E scrittore Americano Timothy Keller Ha detto Che la potenza Del seme Dell'Evangelo È la debolezza Del Signore Gesù La potenza Del seme Dell'Evangelo È la debolezza Del Signore Gesù Non è venuto Con una spada O un martello Ma con un seme Piccolo E delicato Che produce Vita Il seme Della sua stessa Vita Che è morto Al posto Nostro Affinché Noi potessimo Vivere E crescere Nella sua Grazia Fratelli e sorelle Come ha detto Pietro L'Apostolo Pietro Siamo Stati Rigenerati Non da seme Corruttibile Ma Incorruttibile Cioè Mediante La parola Vivente E permanente Di Dio Che rimane In eterno Primo Pietro Uno 23 e 25 Quindi è nella Debolezza Di Cristo Che è venuto A seminare Il seme Della salvezza Di Dio Nel cuore Degli uomini Colui Che è stato Intiodato A una croce Per redimere I peccatori E in quel momento Di debolezza Sulla croce Che la potenza Di Dio E la grazia Del suo messaggio Si rivelano A noi Mettono radici Nei nostri cuori E portano frutto Quando ascoltiamo La sua grazia Quando riflettiamo Sul significato Di ciò Che ha fatto Per noi E su come Influisce Su ogni aspetto Della nostra vita Lo sentite? Ascoltate La parola La parola Si avvicina In noi In Gesù Cristo E mette radici Nei nostri cuori E quando Queste radici Della parola Diventano Sempre più Profonde La parola Trasforma Questo è Il nostro L'ultimo punto La parola Trasforma Quindi amici Gli altri terreni Non producono frutti Non possono portare Un vero cambiamento Per un po' di tempo Forse potrebbero Farlo Visto che si Procede Per tentativi No? Controllando La lista Della cosa da fare Facendo buone opere Cercando Cercando Di guardenarsi La salvezza O di ottenere L'approvazione Di Dio O ottenere La perfezione Ma alla fine Non produrranno Una raccolta Significativa Questo perché Queste cose Non possono Trasformarci Veramente Se pensate Di essere Accettati Da Dio Perché Ascoltate E obbedite Non avete capito Il senso Della parabola Di Gesù Ma se vi rendete Conto Che prima di tutto Siete stati Accettati Per la grazia Di Dio Nelle opere Di Cristo Allora Desiderate Ascoltare E obbedire Perché avete visto Come La sua grazia Trasforma La vostra vita Perché La buona notizia Dell'Evangelo Rivela La grazia Di Dio Ai peccatori E questo Ci riempie Di gioia E di speranza Ci dà sicurezza Ci dà pace E soddisfazione Perché Perché sappiamo Che questo È lo scopo Della parola È lo scopo Della sua parola Perché sappiamo Che Dio È fedele Alla sua parola Come si vede In Isaia 55 Versetto 10 Come la pioggia E la neve Scendono dal cielo E non vi ritornano Senza aver Anaffiato La terra Senza averla Fecondata E fatta Germogliare Affinché Dio seme Al seminatore E pane Da mangiare Così È della mia parola Uscita Dalla mia bocca Essa non torna A me a vuoto Senza aver Compiuto Ciò che io voglio E condotto A buon fine Ciò per cui L'ho mandato Sì Voi Partirete Con gioia E sarete Ricondotti In pace Quindi La parola Di Dio Saremo circondati Dai suoni Alettanti Dei piaceri Quando le obbediamo Per fede Considerate Allora Come ascoltate La parola Lo ignorate Ascoltate In modo Superficiale E se E se Lo fate Ciò che Avete Ricevuto Non potrà Che esservi Tolto Versetto 18 Ad esempio I capi Religiosi Pensavano Di avere La luce Della parola Di Dio Nei loro Cuori Erano Bravi uomini Fedeli Ma in realtà I loro cuori Erano duri Erano duri Alla venuta Della parola Di Dio E il regno Di Dio Sarebbe stato Loro tolto Ma se Colliamo Veramente Il modo In cui L'Evangelo Della grazia Di Dio Ci ha liberati In Cristo Pensando A come sta Producendo Frutti In noi E ci sta Trasformando Le sue radici Andranno Sempre più E più In profondità E poi Brilleremo Come una lampada Nell'oscurità Di Roma Anche se siamo Una piccolissima Minoranza Qui In questa città Pensate Quanto Può essere potente Un piccolo Seme Pensate A marciapiedi E alle strade Del centro città Che sono stati Completamente Trasformati E spezzati Dalle radici In espansione Un piccolo Seme L'ha prodotto No? Le strutture E le fondamenta Degli uomini Non hanno Alcuna possibilità Di Contrastare La potenza Che quel piccolo Seme È in grado Di produrre Così è per Il Seme Dell'Evangelo E della parola Del Signore Ascoltandola E penetrando Sempre più In profondità Nei nostri cuori Essa ci trasforma In modo tale Da far Crollare Anche Gli idoli Più forti Del nostro cuore E le strutture E sociale Più forti E le tradizioni Religiosi Più forti Che l'uomo Ha creato Quindi fratelli E sorelle La parola Ci autorizza A vivere Controculturalmente In questa città Ad essere Una luce In questa città Corrotta La parola Di Cristo Trasforma I cuori Duri In terreno Ricco Ha la potenza Di trasformare I peccatori Ribelli In fili Perdonati Membri Della famiglia Di Dio Che va Oltre I legami Di sangue Versetto 21 La parola Di Cristo Ha la potenza Di trasformare La nostra Vergogna In gioia Ha la potenza Di trasformare I genitori Stanchi In discepoli Pieni di grazie Dotati Dello spirito Di Dio Per fare Discepoli Dei loro piccoli Trasforma Le nostre Vocazioni In chiamate Divine E i nostri Luoghi di lavoro O di studio In luoghi In cui glorificare Dio E testimoniare La sua grazia Trasforma Le relazioni Egoistiche In relazioni Sacrificali E piene Di pazienza E grazia Alla potenza Di trasformare La nostra città Quindi Consideriamo Come ascoltiamo Ascolti La parola In conclusione Amici State ascoltando Le parole Di Cristo E' solo E' solo Un fastidioso Rumore Di fondo Nella frenetica Città Della vostra vita Oppure Il tono Del Evangelo Suona dolce Alle vostre Orecchie Vi avvicinate E se si Perché E perché Volete I miracoli Ma non L'operatore Di miracoli O perché Vedete come La parola Si avvicina A voi Vi avvicinereste A lui Vi Pentereste Dei vostri Peccati Per fede Chiedereste A Dio Di coltivare Il terreno Del vostro cuore Per riceverlo Di eliminare Le spine Dal terreno Del vostro cuore In modo che Con la sua grazia L'Evangelo Possa mettere Radici E crescere Mentre dipendete Da Cristo E della sua parola Per salvarvi E trasformarvi La parola Di Dio E' come Un seme Coloro Che la Ricevono Vivono Della sua potenza Entra In loro Gesù Non è venuto A nasconderla Sotto Un cesto Ma l'ha proclamata Perché tutti La sentissero Non tutti Si sono avvicinati Per essere Trasformati Ma il seminatore Ha comunque Seminato Su tutti i terreni E anche noi Possiamo farlo Fratelli e sorelle Sapendo che Dio ha preparato I cuori In questa città A ricevere La sua parola Essi la Ascolteranno E si Avvicineranno Per scoprirne La sua potenza E la parola Si è avvicinata A noi Ha messo Radici E ci sta Trasformando Con la potenza Dello Spirito Santo Facciamo Dunque Attenzione A come Ascoltiamo Che il nostro Ascolto Sia un ascolto Attivo E continuo Della parola E un impegno Con l'Evangelo Che il seme Dell'Evangelo Possa Produrre È un tale Frutto Nei loro cuori E produrre Frutti di salvezza Per dono Dei loro peccati È una gioia Immensa Posso Tu far nascere Una nuova vita Attraverso La tua parola Signore Fa che le Radici Della tua parola Si espandano Anche nei nostri Cuori Sempre Più In profondità Affinché Possiamo essere Visibilmente Trasformati Da essa In questa città E risplendere Per te Che possiamo Essere Seminatori Fedeli Signore Annunciando La buona notizia Dell'Evangelo Che le nostre parole E mettendola In pratica In ogni aspetto Della nostra vita Vogliamo Ascoltarti Signore E ascoltarti Davvero Quindi Spirito Santo Fa che sia così Per la gloria Di Cristo Gesù E del suo regno Nel cui nome Ti preghiamo Amen Grazie per aver Ascoltato Questo sermone Preghiamo Che Dio Lo usi Per la sua gloria E per l'avanzamento Del suo regno In Italia Per altri Sermoni e risorse Visiti il nostro sito web www.brecciadiroma.it Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti